verso la fine è bellissimo si per essere una roba per bambini non è così male è un clone uguale identico o tira bene alla fine via ricotta sono ancora là guarda si guarda la mia è bloccato no si è bloccato questo qua è il parcheggio dipendente no no questo no allora era quello là la più realtà in questo che è blue fire sembra che va più bello ora le prossime nuove basse questa qua è piuttissima no è un po' meno attiva no è già finito ma che bello poseidoni in opera si sta andando infatti la nostra immaginazione magari se andiamo in stazione ci stanno aspettando e se aggiungerci lo potremmo fare forse no no va sulle rotaie come una montagna rossa l'acqua è da l'altro lato e vi ringrazio grazie grazie grazie